Mannaggia come fate quell'email, chi va? Ecco il bastone da vergogna qui. Eccoci qua! Siamo qua! Siamo ancora qui! Incredibile ma vero? Siamo ancora qua Giulia ma oggi è pieno di sorprese, oggi sarà un webinar di sorpresone. Wow wow wow, non vedo l'ora! Però, allora, siamo partiti prima del tempo ma aspetto a farti vedere le sorprese. Secondo me, allora, quella cosa lì ha bisogno di aspettare che ci sia qualcuno perché voglio vedermi in questo momento. Aspettiamo il picco di... Le reaction proprio! Aspettiamo il picco di gente e quindi, come al solito, partiamo con una spinta di cavolato. Esatto, allora, cavolato numero uno, la mia la voglio tirare fuori subito. Vai, tiro fuori la cavolata. Allora, l'altra volta Luca, no, sono già due o tre volte che parli dell'altro Tesla e in tanti dopo ci scrivono ma io non ci credo che c'hai la Tesla, vuoi fare come tutti quei fuffagur e quindi un nostro follower ha detto che forse della Tesla al massimo ha il modellino e quindi ci ha regalato questa cosa. Questo è il modellino. Va avanti da solo, tra l'altro, bellissimo. Allora, quindi questo potrebbe quasi, no, non batte sicuramente il pelo di Alpaca. No, il pelo di Alpaca no. Però è una polemica che mi aspettavo perché è pieno di fuffaguru che noleggiano Lamborghini a tutto spiano e quindi mi aspettavo questa polemica ma risponderò solo più tardi quando saremo nel picco del webinar. Quindi me la prendo, questa polemica, me la metto qua e quindi per ora non rispondo alle provocazioni. Va bene, va bene. Nel mentre che aspettiamo che i nostri amici si colleghino. E ti volevo dire questa cosa, tra l'altro, che guardo sempre le statistiche dei nostri webinar e c'è una cosa che mi piace veramente tanto e che ti voglio dire, che tantissime persone, cioè praticamente quasi tutti rimangono fino alla fine. Ah, che bello. State per noi. Mi piace, quindi. Questa cosa mi piace un sacco, ragazzi. Quindi vi ringrazio perché non c'è attestato di stima più bello che vedere le persone che rimangono fino in fondo ad ascoltarci e a stare con noi, a scrivere tanto perché vediamo che in chat è sempre super pieno di commenti. Quindi questa cosa a me personalmente fa un sacco bello. Anche a me, anche a me. È bello perché noi ci divertiamo a farlo e piace anche a voi, quindi doppio divertimento. Sì, sì. Poi lo ridirò anche più avanti perché siamo partiti come al solito sempre prima del tempo per le varie prove tecniche cavolate. Luci blu da accendere. Luci blu da accendere. Quindi lo ridirò questo webinar speciale e in fondo, Giulia, daremo una cosina che può fare veramente comodo. Sì, perché l'altra volta, diciamolo, cioè io voglio essere, siamo completamente aperti. Alla fine dello scorso webinar ci siamo detti, e ce lo diciamo un pochino sempre, cosa possiamo fare per rendere questo webinar, questa live, questi podcast, ancora più belli e ancora più interessanti, perché vogliamo darvi tanto valore e vogliamo sempre migliorare. Quindi un sacco di idee. Quella che abbiamo tirato fuori è, secondo noi, quello che possiamo darvi in più, è qualcosa di effettivamente pratico, qualcosa che potete utilizzare alla fine. Sì, sì. Quindi non parliamo e basta, ma vi diamo anche qualcosa di concreto. Sì. Infatti questa è una domanda che ci facciamo tutte le volte. cerchiamo di capire come migliorare i nostri webinar, perché quello che ci interessa alla fine è che voi abbiate il massimo valore, che possiate utilizzare quello che diciamo noi durante i nostri webinar, sia per un discorso di ragionamenti logici, no? Quindi aiutarvi a fare dei ragionamenti strategici anche sul vostro business, molto più profondi di quelli che state facendo adesso. e una delle cose che ci è saltata in mente è perché non diamo anche noi qualcosa di fisico, anche qualcosa che usiamo proprio noi quotidianamente, no? Sì, sì, sì. Precisamente sì. Quindi, se sei davvero interessato all'email marketing, ed è l'argomento di oggi, spoiler, resta fino alla fine perché c'è un bel regalo per te. Sì, c'è una cosina che usiamo proprio tutti i giorni, praticamente tutti i giorni, per capire se stiamo facendo bene l'email marketing. Esatto. E la spiegheremo anche, quindi faremo vedere proprio come si può usare. Sì. Per cui il mio consiglio, il nostro consiglio è di stare fino in fondo perché sarà un bel webinar. Sì. Siamo quasi arrivati alle 15, quindi siamo quasi in fondo alle nostre... Chiacchiere. Chiacchiere. Però ancora non te lo spoilero. No, no, no. Allora, intanto bisogna fare la solita storia, se ci vedete, se ci sentite. Chi cominciate a scrivere in chat, perché magari Giulia parliamo da 5 minuti e non si sente niente. È probabile, può succedere. Allora, chi è online ora ci può dire, scrivendo in chat, se ci vede, se ci sente, se ci sono dei problemi tecnici, perché ogni volta comunque, insomma, abbiamo una regia, abbiamo microfono, telecamere, luci, blu, viola. Quindi se ci sentite, vediamo, ecco qua, apro la chat. Giulio dice, si sente. Bene. Ci vediamo anche, Giulia. Giulio, si vede anche oppure... No, perché se no devo rifare la gag della macchinina. Si sente, si sente in solo. Ognuno dice tutto ok. Ok. Perfetto. Bene, bene, bene. Quindi, Giulia, visto che sono le 15, direi di introdurre il mio oggetto misterioso di oggi. Ok. Ok. Allora, questo, Giulia, è l'oggetto, il secondo oggetto misterioso di oggi. La giudobbia. Che è un bastone, un bastone di una scopa che io userò in tutti i webinar da qui in avanti per sfogare la mia rabbia quando vengono fuori delle cose che non mi piacciono. È un regalo super utile. Da casa, se volete commentare il bastone, il mitico bastone, è un bastone di sale, è un bastone di una scopa che ho preso di là, quindi la nostra donna delle pulizie poi non troverà la scopa integra, che userò perché ci sono tantissime cose che mi fanno arrabbiare, oggi ne abbiamo una clamorosamente che mi fa arrabbiare, e quindi sbatterò il bastone rompendo cose a caso qua davanti. Bellissimo, bellissimo. Una cosa che ti lancio subito per aprire un po' le polemiche di oggi è una persona che lavora nel marketing di un nostro cliente ci ha scritto dicendoci che lui, adesso non ricordo bene le parole, ma lui non apprezza, non ama tanto le mail, le campagne. Le campagne e-mail. Le campagne e-mail. Sì, dice, secondo lui non bisogna insistere troppo lato mail. Che poi troppo è tutto relativo. Troppo è tutto relativo e soprattutto vorrei sottolineare la parte del secondo lui. Secondo lui, cioè senza dati alla mano, secondo lui le campagne e-mail non funzionano. Ora faremo vedere oggi dei numerelli, ma se guardate poi il webinar precedente, ci sono insulti da rumore, su questa cosa qui c'è, basta, basta, basta dire che una cosa non funziona secondo me perché di pancia credi che sia così, bisogna prima guardare i numeri. I numeri non ventono. Bisogna prima guardare i numeri. E lo dice anche il bastone. Lo dice anche il bastone. Se da casa vi dà fastidio il rumore del bastone, ditelo che smetto subito, mettiamo qualcosa di gomma così quando lo debatto non si sente. Bisogna prima guardare i numeri, Giulia, prima di dire questa cosa funziona o non funziona. Se poi non ti piace e ti porta un milione in più, va bene uguale. Chi se ne frega? Va bene uguale, Giulia. Se non ti piace e ti porta un milione, va bene uguale. Ci sono un sacco di cose che non ci piacciono, ma chi se ne frega? L'importante è che funzionino. Cioè, non lo so. Io questi tipi di ragionamenti non li capisco, ma ti vado, proprio questo mi fa un assist, al tema di oggi con le prime slide. Vai, andiamo, siamo cari. Vado, metto via il bastone della vergogna, datemi solo un secondo. Intanto ditemi, scriveteci in chat se il bastone della vergogna fa troppo rumore o vi è piaciuto. Allora, Giulia, ti introduco il tema di oggi che è questo qua. Come ottenere il massimo dall'email marketing del tuo e-commerce. Che bello. Ok. Ricordiamo che noi siamo molto fan dell'email, però non siamo di parte. Cioè, siamo diventati nel tempo fan dell'email. Sì. Lei sembra che non ci piacevano. L'email. Avremo poi le slide? Sì. Sì, Manuela. Troveremo il modo di mandarle via mail alle persone che hanno partecipato a questo webinar. Quindi, sì. Ti manderemo le slide. Torno sulle slide. Sì. Torno sulle slide. Con questa cosina qui, Giulia. Perché, è vero, a noi non piaceva barra... Differente. Siamo indifferenti di fronte all'email marketing. Poi, i numeri sono una cosa. Quanto poi ti piaccia o no, è un'altra. Quindi separiamo le due cose. Ora, la storiella è questa che una decina d'anni fa, ora non ricordo, circa l'anno, ma credo sia 2013. Potrei sbagliare, comunque, circa una decina d'anni fa. La prima app che vedete qui, che si chiama Fit Stadium, e questo è il Health & Fitness, la categoria Health & Fitness di iOS. Se non sbaglio, Android. Categorie salute e benessere. Non lo so. Quello mi sembra un iPhone. Quello è iOS. È un vecchio modello. Eravamo primi di fronte a Runtastic Pro. Ok. Adesso mi sa che è diventato Adidas. Adesso, sì, è stato comprato da Adidas per un miliardo di miliardi, no, per molti, molti milioni. Quindi eravamo sopra di loro, ok? Quindi non vi raccontiamo delle cose per sentito dire. Non vi raccontiamo delle cose perché ci piacciono o meno. Vi raccontiamo delle cose perché ci siamo passati n milioni di volte, ok? E' un motivo per cui c'è il bastone della vergogna, ok? Perché se venite qui e ci dite non ci piace l'email marketing, noi tiriamo fuori il bastone della vergogna. Ma facciamo vedere anche i numeri. Quindi avevamo questa applicazione che andava molto bene. Dobbiamo trovare, Giulia, anche un portabastone della vergogna. Se volete mandarci un link per comprare un portabastone della vergogna, noi lo acquisteremo nel prossimo webinar. Lo acquisteremo. Lo miglioreremo anche su questo. Ora, ora. Noi inizialmente non facevamo alcune azioni, anzi guarda, questa la tolgo un secondo perché ti racconto questa brevissima storiella che poi abbiamo anche introdotto la volta scorsa, ma non nei dettagli dei numeri che ci interessano. È importante. Allora, noi non facevamo nulla di marketing. Perché fare marketing, no? Bastava il prodotto. Basta, basta avere un grande prodotto, no? Sbagliato, sbagliato. Allora, noi non facevamo nulla, però c'era un piccolo problema, Giulia, che avevamo tantissime registrazioni organiche alla settimana. Bello. Bello, dici tu, no? Quindi tantissime persone che si iscrivono nell'app, l'app la usano e bla bla bla. Ma, ciao, ma. Queste persone non comprano, ok? Quindi, tante persone entrano, scaricano l'app, ma non comprano la parte a pagamento. Dai. Ok? Quindi, c'è un problema, un grosso problema. Ora, come facciamo a far convertire quelle persone? Quindi, a fare in modo che comprino la parte a pagamento? In quel momento lì, io ho cominciato a studiare il marketing digitale. E la prima cosa che, su cui sono sbattuto, è stato proprio l'email marketing. Ok. Ok? Quindi abbiamo fatto un autoresponder, che poi vedrete oggi, perché lo citeremo n miliardi di volte. Parleremo di cos'è, di come si fa, eccetera. Esattamente. Abbiamo fatto un autoresponder e ora vi faccio vedere i risultati dell'autoresponder. Tengo a portata di mano il bastone della vergogna, perché voglio picchiare a destra e a manca. Torniamo sulle slide. Ora, Giulia, questi sono numerelli, non vi spaventate da casa, per favore, vi spiego tutti questi numerelli uno per uno, è facilissimo questo conto. È un conto molto simile. Ok? Allora, avevamo, sono andato a vedere, tra l'altro, quindi sono andato a cercare i numeri, ok? Avevamo 2.500 utenti organici a settimana, che sono qua a sinistra, 2.500. E ce ne abbiamo. 52 settimane all'anno. Ok? Fin qui va tutto bene. Fin qui va tutto bene. Poi, quell'autoresponder convertiva il 5% delle persone. E qua già si stanno eliminando delle cose. 5% delle persone. Poi, occhio, questo qui è un numero ipotetico. Sì. Ipotetico, perché... Ci sono autoresponder che convertono di più, sì, sì. Non dipende a poi quanto siete bravi. No, ma oltretutto, questo qui è una prova di autoresponder che abbiamo fatto girare per un po' di settimane, quindi questi sono i numeri che, ipotetici di tutti gli utenti che potenzialmente potevano entrare in quella... Per 200 che è il lifetime value, cioè quanto quelle persone poi mediamente ci avrebbero lasciato per aver comprato la nostra applicazione in tutta la loro vita. Sì, 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 sì. Uguale 1.300.000 euro. Quindi, nell'email che vi ho mandato per farvi scrivere a questo webinar, il cui ho scritto 1.000.000, ti spiegherò come ho perso 1.300.000 euro, sono effettivamente questi numeri qui, quindi non me li sto inventando, erano numeri veri, ok? Erano numeri veri, eravamo primi in classifica. Negli store facevamo questi numeri qui, organici, organici, quindi senza spendere un soldo in pubblicità, Giulia, mi do questo in testa da solo, me lo darò in testa da solo. Cioè, vedete quanto potenzialmente poteva funzionare questa roba qui? Ci poteva portare 1.300.000 euro. Se l'avessimo fatto dall'inizio. Sarebbe molto, molto bello, molto bello. Se l'avessimo fatto dall'inizio. Ci siamo persi, Giulia, 1.000.000 e adesso 3 no, perché è un po', comunque abbiamo fatturato, però vuoi che 1.000.000 non ce lo siamo persi. Quindi, questo webinar, state a sentire, se vi mandano email per dire, iscrivetevi al webinar, no? C'è un motivo, c'è un motivo, c'è un motivo, non mi sto, non c'è, non ci stiamo inventando i dati, è vero. E' per quello che ci arrabbiamo tutte le volte se qualcuno ci dice che l'email marketing non funziona. No, no, l'email marketing funziona, sei tu che non sei capace, è molto diverso. Esatto, esatto, e non pensiamo sempre che sia spam. Santo, santo c'è. Non è spam. Non è spam, perché le persone si iscrivono. Si iscrivono. Ti hanno richiesto le tue email, devi mandarle, se non gliele mandi. Sei anche un po', posso dirlo? Sei anche un po' stronto. Cioè, non pensate che la roba non funzioni o perché a voi non piacciono. Non funziona così il mondo nel mondo del marketing, ok? Il mondo funziona in un altro mondo. Noi cerchiamo di farvi vedere quello che per noi ha funzionato e gli autoresponder funzionano. Sì, sì. Funzionano, se sapete come farli. Ok. Giulia, ho fatto molta fatica, ma tutte le volte mi tocca fare questa idea. È un momento che ci teniamo particolarmente, Luca. Quindi, ci dobbiamo sfogare ogni volta. Ci dobbiamo sfogare, scusate. Vado avanti Giulia, cioè introduco bene o male il vero tema di oggi. Cioè, come dobbiamo fare poi a far bene questa roba qui. Sì, sì, sì. Allora, partiamo da un grande presupposto che ci sono nell'email marketing. Ci sono due macro grandi entità. Sì. Dici qualcosa di più. Vai, parlo io. Sì. Uno sono le campagne singole, quindi sono le famose newsletter, quelle che ricevete ogni tot, perché c'è un nuovo prodotto, c'è una nuova promozione. Insomma, delle cose a spot, inviate in una certa data, a un certo orario probabilmente. Ok, questo è un tipo... Ti dico, cioè, spieghiamo bene la differenza, perché a volte abbiamo anche tantissime persone che ci scrivono che non capiscono bene la differenza tra una campagna e un'automazione autoresposta. C'è una differenza sostanziale, che quando voi mandate via una newsletter, barra una campagna, tutte le persone nella lista ricevono quella newsletter in quel momento lì o più o meno, ok? Sì, sì, sì. Cioè, tutti, tutti ricevono quella mail in più o meno quel momento, ok? In un autoresponder non è così. No. Cioè, potrebbe non essere così. No, dovrebbe essere fatto in modo che parta ad una certa azione di quel contatto e poi che segua nel tempo a seconda di quello che fa. Facciamo il tipico esempio. Esempio. Semplice, semplice. Il carrello abbandonato. Il carrello abbandonato. Quindi, se io vado su un sito, metto qualcosa nel carrello, inizio a completare il checkout mettendo la mia email, è possibile, se le cose vengono fatte bene, che dopo un tot di tempo io ricevo la mail con scritto, ehi, hai lasciato qualcosa nel carrello. Esattamente. Quella è un'automazione, perché parte dal momento in cui io faccio la specificazione di lasciare un carrello abbandonato. Sì. Quindi, non è che tutti nella lista mail riceveranno e hai lasciato qualcosa nel carrello, la ricevo io perché ho fatto quella specificazione in quello specifico momento. Esattamente. Quindi, occhio che la differenza grossa è questa qui. Sì. Poi, vanno usate entrambe queste soluzioni, e vi faremo vedere come, per cercare di aumentare al massimo il fatturato del vostro e-commerce. Se siete molto bravi, sapete fare entrambe le cose, quindi fate sia delle newsletter ogni tot, noi consigliamo anche abbastanza di tempo. Sì, e vi faremo vedere la frequenza corretta, quella che pensiamo noi che sia corretta. Sì. Poi anche lì ci sono diverse teorie, vi faremo vedere tutto. Però, l'importante è, avete un e-commerce? Sì. Ma, questo vale in generale per qualunque business, però, stiamo parlando di e-commerce, noi parliamo di e-commerce. Avete un e-commerce? Sì. Quindi, dovete usare entrambe queste cosine qua. Campagne, quindi newsletter, e autoresponder. E noi vi faremo vedere come. Sì. Ok? Vado avanti con le slide, Giulia. Ok. Ora, campagne. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Cioè, che cavolo devo fare io che ho un e-commerce, no? Per aumentare al massimo engagement, click, alla fine anche profitti del mio e-commerce? Cosa devo fare? La prima cosa... È mandare delle newsletter sui vostri prodotti bestseller. Ok? Perfetto. Quindi, voi avrete i vostri e-commerce a n prodotti, solitamente ce ne sono alcuni che vendete molto più di altri. Quindi, fanno o la maggior parte del vostro fatturato, o magari ne vendete in quantità multiple, quindi le persone magari le ricomprano anche. E quelli sono i prodotti ideali su cui costruire delle newsletter. Esattamente. Quindi, se dovete proprio cominciare a fare newsletter per vedere come si fa, la prima cosa che vi consigliamo di fare è scrivete delle campagne, delle newsletter sui vostri prodotti bestseller. Perché sbagliare non sbagliate mai. No. Non sbagliate mai. Assolutamente. Quindi, vi scrivete, prima di tutto fate un'analisi di quali sono i vostri bestseller, ma se gestite un e-commerce più o meno dovreste saperlo. E fa, mandate via una mail dicendo, questo qui è il nostro prodotto più venduto, queste sono i suoi benefit, queste sono le sue caratteristiche, clicca qui per metterlo nel canale. Il link fa solo quello. Perché poi dopo parleremo anche di, mannaggia come fate quelle email, chi va, ecco il bastone della vergogna qui. Io poi vedo che, mi fate incattare, perché io vedo quelle email che mandate via, ma si potranno fare delle email così? Si potranno? No. Vi diremo anche come fare le email. Calma, ci arriviamo. Sì, non spoiliamo. Non vi manco, non vi, mi fermo, mi fermo, mi fermo. Sappiamo che c'è un problema comunque sui link, eh? Tenete me la mente. Mi fate arrabbiare, mi fate, non mi fate arrabbiare. Non mi fate arrabbiare, ci vuole un portabastone della vergogna. Ok. Vado avanti, anzi, non riapro le slide perché le so già tutte. Sì, questo ormai è la fase. Scusa. Allora, la seconda cosa per cui dovreste usare le campagne sono le offerte. Ma c'è un ma, ti butto lì un ma che poi dopo ti dico bene. Le offerte. Siccome si spera che si auspica, che facciate delle offerte sul vostro e-commerce. Se non le fate, bastone la vergogna. Giulio scrive, ho capito, oggi si prendono delle bastonate. Bravo, Giulio. Bravo, bravo. Oggi è la bastonata dei... Mi hanno suggerito la volta scorsa di sfogarmi con qualcosa. Abbiamo preso un bastone. Comunque, allora, dovete fare delle offerte. Quindi, fate delle newsletter quando fate le offerte. Esatto, guarda, l'offerta è... Oggi iniziano gli sconti perché è un giorno bellissimo. Tieni, vai. Giulio, Giulio, tante volte ci capita perché un nostro cliente ci ha detto che ha fatto un'offerta ma non ha fatto neanche una meglio. Io voglio darmi il bastone in testa. Ma perché? Hai una lista di 5.000, 10.000 contatti. Ma quanto fatturato hai perso? Quanto fatturato hai perso? Ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Devi usarla quella lista di contatti. Cioè, le persone... Lo fate sudare. Allora, innanzitutto, se ti hanno lasciato la loro scusa, santo cielo, vuol dire che sono interessanti al tuo prodotto, a quello che vedi. Per cui, se tu lo metti in sconto, glielo vuoi dire o non glielo vuoi dire? Bisogna dirglielo. Diglielo, diglielo. Adesso tiro fuori il ma che vi ho detto prima. C'è un ma. Quando fate le offerte, se mandate via una sola campagna, vengo a casa vostra con il bastone della vergogna. Ok? Non si fa l'offerta e si manda una sola mail, ma è da carcere sta roba qui. Non si fa. Ci vuole. Ci vogliono una serie di mail. Quindi, soprattutto, ce ne vuole una, diciamo, alla fine, quando sta per scadere l'offerta, che la prima e l'ultima sono quelle che sostanzialmente vanno più di tutte, no? Sì. Quindi, una campagna è poco. È poco. Ok? Non va bene. No, è troppo poco. A parte che c'è caso anche che non la vedano. Cioè, non tutte le mail finiscono una posta in arrivo, c'è quella che va in promozione, c'è quella che va in desiderato. Quindi, magari, aumentiamo un pochino la frequenza quando abbiamo un'offerta interessante. Facciamoglielo arrivare quel concetto. Facciamoglielo arrivare. Ragazzi, è importante, per favore. Dai, dai, ci fate sudare. Allora. Aspetta, oggi leggevo... No, non solo l'olio. Oggi leggevo un post su LinkedIn, non mi ricordo qui, scusate, però ho preso questa idea bellissima, che in pratica lui, questo ragazzo è un copywriter, e lui, quando andava a correggere i copy dei suoi clienti, in pratica ogni volta che facevano un errore, scriveva qui, hai ucciso un gattino. E se fai più errori, uccidi i gattini. Se tu non mandi le email, se tu non mandi le email, hai fatto una strage. Se ne mandi solo una per le tue offerte, almeno dieci gattini, secondo me, li hai uccisi. Quindi, fai del male se non mandi troppo email. Fai del male. Poi mi perdo il filo del discorso, perché queste cose qui, purtroppo, che sembrano delle cose scontate, non lo sono. Non lo sono. Il socio di Warren Buffett dice sempre la prima cosa, la cosa più importante, è non fare stupidaggini, no, Giuliano? Cioè, non partite da dover fare delle cose straordinarie, no, partite da non fare stupidaggini. E una stupidaggine è non mandare delle mail quando fate delle offerte, oppure non farne più di una, ok? Il mio ma di prima era quando fate delle offerte è meglio se poi implementate o non corrisponde. Sì, esatto, perché è più conveniente che dover mandare le newsletter, le potete mettere su tutte insieme. Noi ci scherziamo sopra, cioè in questo momento stiamo cercando un pochino di farvi passare questa cosa, perché con lo scherzo magari vi arriva anche meglio. Però è importante perché vi può far ottenere degli ottimi risultati. Assolutamente. Vado avanti e mi sono dimenticato quali sono gli altri punti. Ah, un altro modo, diciamo, idea per le vostre campagne sono le testimonianze. Quindi, se avete dei prodotti che generano dei prima o dopo importanti, oppure anche semplicemente le testimonianze di chi poi ha usato questi prodotti, che si è trovato bene, ok? Mettetele nelle newsletter, nelle campagne. E tra l'altro, un nostro cliente ha detto, ma io ho solo testimonianze video, non le posso mettere nell'email. Non c'è problema. Se hai solo testimonianze video, prendi quello che dice nel video e lo scrivi testualmente nell'email. Magari ci metti anche un link, se hai una bella landing, dove si possono andare a vedere il video. Quindi, cioè, puoi sfruttare in tutti i modi le tue testimonianze, non ti preoccuparti. Esattamente. L'ultimo punto, vado a memoria, sono le campagne, le newsletter cosiddette di brand, cioè dove, Giulia, andiamo a comunicare delle cose che fanno parte più dello storytelling del brand. Quindi, la value proposition, quindi quali sono i valori, quindi le novità del brand. Sì, sì. Ci sono degli eventi, cioè delle cose non incentrate proprio su un prodotto, ma un pochino più alto. Sì, faccio una parente, non rompete le palle con le cose che interessano solo a voi. Sì. Perché una volta c'era, Giulia, ti dico questa cosa, una volta c'era il campo newsletter, anzi, su molti e-commerce, su molti sindicati, il campo newsletter, iscriviti alla nostra newsletter e lì mandavano, mandavate il recap delle cose che avete fatto nel mese. ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, dico la roba lì. Se partecipate, ad esempio, a una fiera, se fate delle cose minimamente interessanti, allora le mettete, se no, non sprecate la presizione dei vostri dati. C'è stato stato. Sì, sì, sì. Fate una storia su Instagram, se volete proprio dirvelo. Poi, il dipendente del mese, il dipendente del mese. Ma chi se ne frega il dipendente del mese? Sì, è stato. Secondo me già finiremo tra un po' in quei canali YouTube di gente fatta. Io prima di tutto. Chi se ne frega il dipendente del mese? Dovete dare qualcosa che interessi al vostro cliente, ok? Un minimo di interesse ci deve essere. Ultimo punto, ultimo punto, Giulia, la frequenza. Ecco, questo è un tema. E' un parentesi sulla frequenza. Questo è un tema proprio che vi sta a cuore. Voi avete una paura folle di rompere le scatole ai vostri conti. Sì, sì. Smettetevela. Per prima cosa, io questo lo dico sempre. Questo lo useremo come intro, Giulia. Sì, smettetevela. La prima cosa che diciamo sempre è che in tutte le email che mandate c'è una cosa fantastica che c'è il tasto disiscrivimi. Sì, sotto, sotto. E lì lo devono solo cliccare quindi in qualunque momento loro si rompono le scatole di leggere le vostre email si possono disiscrivere dalla lista. Tra l'altro, questo per favore, scriveteglielo anche quando vi dicono smettila di mandarmi tutte quelle email non le sopporto più. E te gli dici guarda Nani, ti odio sicuramente disiscritto dalla nostra email. Oggi mi deve gioccivere. guarda Nani maggiore di tutto. Allora, gli dite che l'avete disiscritto perché così è qua. Ma poi lo dovete ricordare perché si deve sentire stupido in quel momento che in tutte le vostre email c'è un tasto disiscriviti bello grande dove si possono disiscrivere. Non c'è problema. Non c'è alcun problema. Quindi, ricapitola. Non abbiate paura di mandare almeno un email a settimana quindi le newsletter potete mandarle almeno una volta a settimana. Al minimo una volta a settimana se proprio... Perché se poi pensateci se io non vi sento almeno una volta a settimana ma chi si ricorda di voi? Ma chi si ricorda di voi? Perché è un problema nel senso se ne si dimenticano di voi dopo allora si disiscrivono allora vi segnalano come spam voi gli dovete ricordare che esistete è importante. Io mi ricordo uno dei miei primi libri che ho letto di email marketing io ti parlo delle ere di N ere geologiche fa dove uno dei primi capitoli se non il primo era un capitolo sulla frequenza e diceva io ho cominciato a fatturare N volte tanto quando ho alzato la frequenza delle mie campagne cioè quando l'ho portata da una volta ogni morte di papa a quasi una volta al giorno ok? Io non vi sto dicendo ho fatto un email al giorno perché a parte che è un lavoro insomma tosto soprattutto in un e-commerce dove comunque la quantità di contenuti insomma non è da produrre non è che ce ne hai sempre nuovi di continuo esattamente però però c'è una scala di grigi tra un email all'anno mandata forse al Black Friday e un email al giorno ok? almeno una volta a settimana grazie grazie anzi ci ringrazierete mandandoci questi prestigiosi gadget che ci inviate tutte le volte ok? Vado avanti con le sliders Giulia vogliamo fare sondaggio veloce sondaggio veloce brava sondaggio veloce scrivete in chat per favore quante email in questo momento state mandando potete non vi non ci arrabbieremo anche se ne mandate a triero scrivetelo sì non vi giudicheremo non vi giudicheremo daremo invece dei premi a chi ne manda più di una settimana ok secondo me Giulio tu potresti essere uno che ne manda più di una a settimana dai 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 dacci una gioia vado avanti con le slide Giulia ora siamo arrivati qui ecco qui Giulia io impattì tiro fuori ancora il bastone della vergogna allora questa qui è un'email che abbiamo fatto noi sì ok dove ci sono una serie di cose non ce n'è una ci sono una serie di cose che dovete sapere sì anzi prima prima di dire qualunque cosa vorrei che da casa per cortesia mi faceste dei commenti su questa roba qui perché io sono strassicuro che qualcuno di voi avrà qualcosa da dire su queste email qui decisamente decisamente perché cioè dai Luca quella è la mail è la mail di un e-commerce ecco ecco stavo pensando la stessa identica cosa io voglio che non di essere in tona bastonata dice Giulio Giulio stai tranquillo stai tranquillo guarda ci siamo passati anche noi ci siamo passati anche noi quindi non ti preoccupare si può uscire si può uscire dalla zona bastonata comunque torniamo alla nostra straordinaria email allora l'obiezione che dice Giulia che se uno vede questi email qui ok la prima cosa che dice è questo non è un email di e-commerce eh certo ok mancano delle cose decisamente mancano delle cose forse ce ne sono anche troppe cioè c'è da una parte mancano delle cose dall'altra ce ne sono anche troppe faccio io l'obiettore faccio io quello che fa le obiezioni la prima obiezione che viene fatta quando si vede strada qui è questa ma non c'è neanche un'immagine del prodotto Luca voglio che lo ridici alla telecamera per favore ridillo ridillo ma Luca non c'è neanche un'immagine in queste email ma che come è possibile come è possibile come è possibile che non c'è neanche un'immagine ragazzi adesso vi spiego anche questa cosa qui allora prima di tutto le mail che vi arrivano dagli e-commerce più grossi così come anche le campagne pubblicitarie sono uno sport a parte rispetto a quello che state facendo voi sono proprio cioè come uno gioca a basket e l'altro gioca a calcio non dovete per cortesia prendere quella roba lì come riferimento mettiamo in chiaro che allora se qualcuno qui dentro è in questo webinar è proprietario di Nike Zalando Asos Amazon e dammi un altro un altro e-commerce che no Amazon le fa bene Amazon le fa bene ok lo dica lo dica questo non è un webinar per te è un altro spot come se voi vedete le pubblicità di branding dei più grossi brand ok non è la roba che dovete fare voi per lo meno per ora perché voi non fatturate neanche un miliardesimo di quello che fatturano non è possibile che facciate le stesse identiche cose otteniate quei risultati lì facendo quella roba lì così nel dettaglio di alcune KPI no sono abbastanza compito anch'io ma anche mi vengono in mente gli integratori sì perché anche loro comunque hanno quello standard di mail lì cioè io ricevo sempre le solite quattro cose e non c'è quello di cui parleremo dopo non c'è niente cioè anche noi Giulia quando abbiamo preso in gestione questi e-commerce che poi fattura una cifra che va dai 5 ai 10 milioni di euro ora come gestivano l'email marketing loro cioè se io scendo di casa scusate scusatemi è la verità se io prendo uno a casa sulla via Emilia probabilmente lui lo gestisce meglio mi dispiace dire queste cose ma è la verità quindi non guardate come fanno loro le robe perché potrebbero non farle bene e vi magari sono ispirati a qualcuno che le sta facendo male ok torno all'immagine sì dai per me torno all'immagine allora qui come vedi ci sono delle cosine che vanno identificate ok la prima cosa che effettivamente non c'è un'immagine no ok no non ci sono immagini praticamente di nessuno dei progetti di nessuno di queste cose non ci sono immagini punto primo punto secondo vedi un'email testuale ok che è mandata da una persona cioè non è qui il brand che manda l'email ok qui di solito le persone impattiscono non è il brand che manda l'email ma è una persona all'interno del brand ok che è una differenza sostanziale sì cioè qui è Elena di Powerlifting Shop non è Powerlifting Shop perché Giulia questa cosina qui perché per il discorso che facevamo l'altra volta tra l'altro quindi se non ci sei perso come viene al precedente vado a rivedere perché è una scena bellissima comunque il problema è che se non usiamo una persona siamo uguali a tutti gli altri e conness se noi ci mettiamo una persona davanti a chi riceve l'email sembra che stia parlando direttamente con lui esatto quindi facevo l'esempio di Luca l'altra volta con Ares il nostro progetto delle solette in fibra di carbonio noi mandiamo email al principalmente runner mandandogli anche dei consigli su come correre più veloce eccetera e loro rispondono a Luca convinti che sia lui che manda un'email alla volta e gliele scrive uno per uno non è così ovviamente non è così c'è un'automazione che manda le mail per Luca e le manda a nome di Luca di Ares sì cioè le mail sono un canale di comunicazione uno a molti che però ti permette di creare in quel canale comunicativo un tocco di personale ok cioè è come se foste voi a inviare a un'altra persona singola una comunicazione ok vi permette di fare questo l'email per cui dovete sfruttarlo al massimo dovete far finta effettivamente che siate voi a inviare quella mail personalmente a quella persona lì e capita anche che tante persone ti rispondano alla mail dicendo grazie Luca dei consigli che mi stai dando assolutamente se siete bravi a scrivere il copy alle persone sembrerà proprio che gliel'abbiate scritta voi manualmente e mandata una per uno e questo è bello perché si crea un rapporto personale c'è fiducia se ci rispondono e sarà poi più facile vendergli i nostri prodotti poi ci sono anche dei cosi secondari oltre a questa fiducia che è importantissima ai server dell'email questa roba è bellissima perché sì perché ricevono un feedback positivo vuol dire che le persone rispondono alla tua mail e tu rispondi a loro quindi la tua mail è sicura per una risposta e magari invece di farti arrivare in promozione la prossima volta ti fa arrivare un po' se ne arrivo che non è per niente male quante volte l'abbiamo detta questa cosa quante volte vediamo farla male tra l'altro tanti poi ci scrivono ma non è vero ragazzi vi farò vedere una slide dove oltre che a dirle queste cose qui le testiamo anche facciamo dei test a B per vedere se questa cosa è vera o no quindi noi tutta questa roba qui l'abbiamo testata e sono come il milione e tre di fatturato di prima non ve lo scriviamo perché siamo sul gruppo di marketer e dobbiamo far vedere i numeri belli non me ne frega niente dei numeri belli non facciamo alcun passo non me ne frega niente dei numeri belli non me ne frega niente anzi vi faccio vedere i numeri brutti vi faccio vedere dove abbiamo perso dei soldi non me ne frega niente dei numeri belli anzi è molto più informativo è molto più educativo capire dove ci sono state delle problematiche e perché dove c'è stata l'anomalia e perché piuttosto che fare uno screen con photoshop e dire abbiamo fatto 30 mila euro con 100 euro di fatturato quello che vedete in generale sui gruppi tipo quello non funziona così prima ve ne accorgete di questa roba meglio è sicuramente e poi ripeto magari a voi piacciono le email con le immagini voi non siete tutti i vostri contatti per prima cosa seconda cosa provatelo c'è uno strumento bellissimo per fare i testa B più sicuro di quello se poi non andate a confrontare i risultati e aggiungete una certezza statistica non c'è niente avete la verità chiara di quello che sta succedendo potete dire sì è meglio mandare via le email con l'immagine piuttosto che senza l'immagine esatto io Giulia voglio fare il debunker guarda ti trasformerò questo webinar in futuro nel debunker dei marketer fuffaguru perché mi fa esplodere il cervello a me sta roba mi fa esplodere il cervello perché poi tanta gente ci casca purtroppo poi tutta la categoria ci casca perché siccome ci sono scusate cento stronzi che si comportano così dopo tutti quelli che fanno marketing digitale sono così invece a me sta cosa non piace perché noi facciamo un lavoro molto diverso facciamo un lavoro basato sui numeri quindi cerchiamo di capire effettivamente come stanno le cose e non ci interessa niente fare vedere dei numeri artefatti giusto per come dicono i non boomer per flexare i numeri chi se ne frega chi se ne frega quindi voglio fare il debunker quindi se volete mandarmi dei link di robaccia che avete visto in giro fatemela mandatemela così ne parliamo nei prossimi webinar quando volete molto volentieri andiamo avanti con i nostri slide perché c'è tanto tanto tanta roba allora qui Giulia ci sono delle cosine che vanno sottolineate primo testo scrivete scrivete testo come se foste Giulio flexare sì l'ho imparato da un ragazzo di 18 anni io non lo sapevo che si dicesse così perché sono un boomer quindi flexare testo grande alzate il font di quelle newsletter li mortazzi perché non dovete scrivere piccolo la gente non vede la gente non vede il vostro target probabilmente ha più di 20 anni ha anche delle difficoltà a leggere su dispositivi piccoli quindi alzate quel cavolo di font metteteci del cavolo di link ma che lingua è la lingua dei giovani di oggi allora scusami Giulio ma non lo so neanche io quindi sto imparando ma allora dovete mettere i link nelle mail c'è anche un motivo più alto che vi farò vedere ma dovete mettere il cavolo di link nelle mail io vedo Giulia ho visto delle mail di marketer anche famosi che mettono il link delle mail in fondo giù nel casino ma santo cielo ma oggi è un webinar così è un webinar del vostro della vergogna però cioè voi allora partiamo dal presupposto che cosa deve fare chi riceve cosa deve fare chi riceve una mail cosa volete che faccia cosa deve fare chi riceve una mail leggerla ma poi cosa deve fare cliccare 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 se non ci mettete i link nelle mail scusate ma come fa la gente andare poi sul vostro sito si ci può andare in organico perché scrive ma i link sono stati internet in alto grazie a link perché non ce li mettete ma sti errori oppure quelli che li nascondono cioè tipo che sono i link lo stesso colore normale del testo io ho visto anche queste cose qui fate in modo che si vedano cioè coloratevi un colore diverso che si legga sullo sfondo della vostra mail quindi solitamente bianco e quindi magari non so li facciamo blu li facciamo rossi vedete che sono blu qui i link si che si vedano a volte li volviamo anche tutti quindi mettete i link soprattutto mettete i link above the fold cioè nella prima parte dell'email perché la gente quando vede l'email visto che siamo in una società dove c'è una rapidità di volontà di informazione ma anche di decadimento proprio dell'attenzione la gente deve vedere subito di che cosa si tratta esatto quindi nella prima frase ci mettiamo un link lo vedete che nella prima frase c'è un link perché dovete fare così ringraziateci dopo mandandoci dei cioccolatini a Limitless SRL via Emilia 7 gambetto andiamo avanti Giulia poi c'è anche un pulsante un pulsante in fondo vedi nero nero Giulia sono ignorante ma dove termine questa cosa Giulia me la dicono di continuo sui video di youtube ci sono purtroppo delle parole inglesi adesso lascia perdere boomer e flexare che ne ho imparato l'altro giorno above the fold above the fold ci sono delle parole inglesi che purtroppo non hanno la traduzione in italiano quindi io le devo dire così mi dispiace sarebbe sopra la piega sopra la piega sopra la piega come capisci cioè i giornali non li apre più nessuno quindi la piega che cos'è era la piega del giornale esattamente esattamente non perdiamoci in queste in queste chance andiamo avanti perché c'è tanta roba da vedere c'è un pulsante ok e c'è una firma sotto vedete con una bella faccina un nome e anche chi è posso un appunto se non volete mandare la mail a vostro nome perché avete paura che il vostro nome venga misprattato potete inventarvi una persona che manda le mail per voi noi abbiamo abbiamo lo possiamo dire dei clienti che non vogliono effettivamente mandare le mail a loro nome e abbiamo la mitica Sara Sara che manda le mail che funziona sempre un bel nome funziona mi piace con una foto presa dal sito this person does not exist che genera foto di persone che non esistono ci mettete quella bella faccina e una faccina che fa ridere e la mitica Sara che manda le mail e non dà fastidio a nessuno così abbiamo risolto un sacco di problemi esatto Giulia vado avanti perché uno potrebbe dire ma vi siete inventati tutte queste cose chiaro sì mi siete inventati queste cose siete i soliti bla 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 big look siete i soliti big look no no andiamo avanti perché siamo arrivati qui perché siamo arrivati qui perché noi facciamo dei test a b su tutte le mail che mandiamo ok facciamo dei test a b su tutte le mail che mandiamo cosa significa che dei tool che vi faremo vedere ok ti permettono di inviare sulla tua lista mail due mail diverse quindi divide questa lista a metà faccio così tac divide a metà ok e a questo primo gruppo manda una mail un tipo di mail a questo gruppo manda un altro tipo di mail ok perfetto e si vede poi alla fine quando fate l'analisi del recap di come è andata quest'e mail chi ha cliccato di più ok quindi se ha vinto una versione o se ha vinto l'altra chi ha cliccato chi ha comprato di più ok e questa cosa si può vedere proprio dal punto di vista statistico quindi non si scappa adesso sembra che i test a b siano la cosa che vogliamo dire tutte le volte perché l'abbiamo detto per le ad l'abbiamo detto per le email lo diremo per le landing page però effettivamente se volete capire se una cosa funziona o non funziona dovete fare un test cioè non c'è altra cosa che tenga non è secondo me secondo lui secondo il guru di sto cavolo cioè bisogna fare un test chi è non lo testate non potete dire niente ma se campiamo cent'anni è perché la medicina si è evoluta grazie a ste robe qua grazie perché cosa succedeva che una volta c'erano dei farmaci che funzionavano perché l'aveva detto il dottore e quindi la gente moriva molto semplicemente la gente moriva fino a che non si è cominciato a fare test in maniera statisticamente e anche dal punto di vista proprio della creazione del test fatti con un certo criterio la gente moriva la gente moriva ok si è cominciato a un certo momento a dire ma sarà forse il caso che guardiamo se sticcavano di medicinali o azioni mediche che facciamo sulle persone funzionano o no quindi cosa facevano prendevano dei gruppi di persone li dividevano ok a uno a un gruppo gli davano un medicinale all'altro non glielo davano gli davano un placebo e poi tiravano una riga e vedevano ah qui di qui ha fatto 20 morti e di qua ne ha fatti 0 ok quindi è esattamente la stessa identica cosa ok se campiamo 80 90 100 anni è per sticcacchio di testa lo dovete fare anche sulla vostra e-mail si per favore fate e non svegliarvi a me l'e-mail con le scritte grandi non piace io mi presento a casa tua con il bastone della vergogna se non ti piace Giulia Manuela dice ma non è un falso allora Manuela noi non ti stiamo dicendo che devi falsificare la tua mail no io ti sto dicendo Giulia ti sta dicendo metti la tua faccia il tuo nome nelle mail virgola non lo vuoi fare perché io non lo so abbiamo avuto dei clienti che non lo volevano fare non si sentivano si sentivano a disagio si non lo so quindi il nostro consiglio è metti un'altra faccia si ma è un cioè quel sito che ho detto io this person does not exist genera foto di persone che non esistono quindi non è che stai usando la faccia di qualcun altro non c'è niente poi se qualcuno chiede di Sara gli puoi dire Sara in questo momento non c'è o ti rispondo io spondete il nome di Sara cioè è un dettaglio questo qui non stai facendo del male a nessuno non è che adeschi le persone con Sara è un nome messo lì in fondo alla mail però noi ti consigliamo di usare il tuo comunque di chi ti gestisce il customer service insomma molto molto semplicemente ok quindi qui vedete esattamente un test a b che abbiamo fatto se non mi pare proprio sul bottone in fondo alla mail e a cipicchia a ciderbolina Giulia la il bottone vince con il 24 scusate il 98% se non leggo male di certezza statistica e migliora il tutto del 24% migliora il CTR del 24% ora il CTO CTO migliora il CTO del 24% dopo diremo che cos'è il CTO significa che proprio per farla breve il 24% delle persone cliccano di più sulla versione con il bottone ok quindi il bottone lo mettiamo quindi dovete mettere il bottone la freccia logica è il bottone ci deve essere se volete far cliccare le persone di meno non lo mettete ma se lo volete se volete far cliccare di più mettetelo tra l'altro cara Giulia se il 24% delle persone vanno a finire sul sito significa anche che il 24% delle persone in più poi potenzialmente possono comprare ah va bene quindi far cliccare visto improvvisamente funziona andare a mettere il bottone anche se non vi piace funziona quindi questa roba qui tendenzialmente funziona poi abbiamo fatto un miliardo di test magari un giorno Giulia faremo un webinar su tutte le cose che abbiamo visto ma sono talmente tante e continuiamo a farle di nuovi praticamente ogni settimana quindi ne verranno fuori degli altri e quindi se volete che facciamo questo webinar scrivete in chat webinar su i test vado avanti qui siamo arrivati al regalo di oggi ah finalmente regalo di oggi che vediamo se riesco a mettervi già già in chat cosa succederà Giulia se io provo non so a che nome verrà fuori forse vediamo prova a fare così Giulia Dominicana guarda che bello allora quella cosina che vi abbiamo messo in chat ora è un documento su cui potete andare ok quindi potete andarci sopra ve lo potete copiare duplicare non potete modificare quel documento lì ma tanto ve lo potete scaricare ok no problemo è esattamente quello che noi utilizziamo per fare per tenere sotto controllo e migliorare le nostre campagne è proprio quello è proprio quello è proprio quello è proprio quello ora se sono un bravo regista prova a entrarci dentro però Giulia prima di prima di entrare in quella visualizzazione facciamo una macro panoramica di quello che trovate lì dentro sì 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 perché questa slide iniziava con un titolo che era KPI cioè vi abbiamo detto che dovete fare le email che è importantissimo che bisogna farle ogni volta a settimana che cosa però dobbiamo guardare cioè come capiamo se le nostre email stanno funzionando e se alle persone interessa quello che mandiamo perché questo è un pochino il succo del discorso e ci sono secondo me minimo tre KPI che sono soprattutto e poi ce ne sono anche delle sotto un po' meno importanti però partiamo con queste tre e sono secondo me l'open rate quindi tasso di apertura esatto e click to open sì quindi quanto le persone cliccano rispetto a quanto hanno aperto l'email ti voglio fermare Giulia perché una volta ho avuto una discussione mi pare proprio con con qualcuno di marketer o forse era Luca Mastella ebbi una discussione accesa con lui ma vi parlo di due o tre anni fa perché lui mi disse che lui guardava il CTR che invece è il click rispetto agli invi vuol dire che se mandate via mille email e uno ci clicca sopra scusate dieci ci cliccano sopra quello lì è l'un percento di click sugli invi il CTR e io gli dici caro Luca Mastella tutto bello ma c'è un problema c'è un problema perché effettivamente tu con il CTR non valuti non stai valutando bene quanto è buono il contenuto che hai scritto all'interno della tua mail perché banalmente se nessuno apre quell'email ok quindi tu hai zero aperture nessuno ci cliccherà ok e quindi tu avrai CTR zero ok caro Luca Mastella ti voglio bene ma tu non stai valutando quanto è buono il contenuto tu il contenuto buono lo valuti solo se fai un rapporto tra i click e le aperture ok perché le aperture impattano ragazzi cioè se uno non apre la mail se tutti non aprono la mail come fate a capire se il contenuto dentro è buono o no cioè la gente lì dentro non ci entra e quindi c'è un problema a monte c'è un problema sul server dell'invio magari sei finito in spam e la tua mail non viene più aperta per quel motivo cioè il CTO secondo me serve proprio a valutare cosa c'è dentro alla tua mail cioè com'è quel contenuto che hai scritto ci hai messo il bottone ci hai messo un'immagine ci hai messo Sara o ci hai messo Luca cioè puoi valutare queste cose invece il tasso di apertura ti può dire effettivamente se invece il tuo titolo dell'oggetto nell'email è effettivamente buono cioè sono due che pi hai distinte una ti dice se l'oggetto è buono se chi manda l'email è buona l'altra ti dice invece il contenuto è ingaggiante e è interessante oppure no quindi questi sono due quindi caro Luca Mastella che quella volta mi ricordo si arrabbiò tantissimo perché lui disse ah il CTR il CTR sì il CTR è vero se leggi o se guardi delle guide online tu ti parla di CTR poi dopo se comincia a fare i mail marketing seriamente hai bisogno anche di valutare se il tuo contenuto è buono e ci vuole il CTO ok l'alberta secondo me il KPI molto molto interessante sono anche i tassi di disiscrizione tassi di disiscrizione unsubscribe rate esatto cioè quanti di quelli che poi hanno aperto la vostra email quanti rispetto a quanti l'avete inviata si sono disiscritti perché se quel tasso supera una certa percentuale forse c'è un problemino c'è quella lista o è sporca quindi l'avete presa in modi un po' puliti oppure quello del contenuto che avete mandato è qualcosa di strano c'è qualcosa da indagare se il tasso di disiscrizione si alza esattamente poi Giulia ti aggiungo io volante una KPI che noi guardiamo spesso che è il cosiddetto dollaro send noi la chiamiamo così perché dollaro send perché viene fuori poi dati il campaign che la chiama così ma dollaro send è quanti euro ok di tornano in tasca da ogni mail che inviate è una metrica importante perché insomma alla fine di queste mail se avete un'e-com devono farvi pagliare dei soldini anche qui secondo me Luca dobbiamo fare un appunto da dove guardate questi dati cioè perché potreste allora aperture e click va benissimo e unsubscribe devono essere guardate dal vostro tool di mail marketing che sia active campaign che sia mail 5 insomma quello che state usando però se dobbiamo iniziare a guardare dati più relativi all'e-commerce quindi un'aggiunta al carrello una transazione non possiamo più guardarli dal tool perché molto spesso i tool si attribuiscono come fanno i tool di advertising un sacco di acquisti che poi effettivamente non sono reali per esempio active campaign dice che lui si attribuisce tutti gli acquisti che vengono da sette giorni dall'invio dell'e-mail nel senso basta che io l'ho inviata qualcuno lui non l'ha neanche aperta però lui si attribuisce l'acquisto queste sono le cose che nessuno mai vi dirà quando voi guardate dei webinar o comunque delle live di fantomatici advertiser tutti fanno vedere questi pannelli straordinari su un miliardo di conversioni sì un miliardo di conversioni fate impression quindi la gente vede la vostra campagna pubblicitaria poi dopo sette giorni acquista e lui si è trazzato una conversione come fatti il campaign per favore non è non è sta porcheria andiamo a vedere questo foglio Giulia lo apro ci provo allora vorrei che però da casa quindi perché proviamo a fare una condivisione schermo quindi se non funziona ditecelo subito perché è una roba che non avrei mai fatto provo a condividere questo tastino qui vado poi no questa qua e questo qui ok quindi ora andremo via noi e dovrete dovreste vedere il report condiviso speriamo di sì comunque vado velocemente qui sopra allora ogni riga Giulia è una campagna una newsletter che voi avete inviato quindi dovete avere sotto controllo tutte le newsletter che mandate il mio consiglio è aspettate una o due settimane da quando avete inviato la campagna e poi andate a Manona a riempire le caselline di questo esatto di questo pannello quindi data invio qui abbiamo messo anche data report così magari se ci sono cioè tenete anche sotto controllo quando fate il report poi Giulia qua ci sono due colonne una è prodotto e una categoria perché se state inviando delle email che riguardano un determinato prodotto scrivetelo lì perché vi aiuta anche a tutte le volte non rimandare lo stesso prodotto a n volte sì sì e poi vi fa capire effettivamente magari se c'è un prodotto che funziona meglio di un altro o una categoria di prodotti che funziona meglio di un altro esattamente poi mettete l'oggetto questo qui vi serve perché quando poi farete un'analisi diciamo a posteriori potete scorgere capire se ci sono dei pattern a livello di scrittura dell'oggetto che magari hanno un open rate più alto rispetto ad altri sì sì e anche qui potete fare dei test cioè magari c'è un determinato oggetto che funziona meglio di un altro ad esempio in un e-commerce di integratori che gestiamo noi il fatto di metterci il nome all'interno dell'oggetto dell'email fa aprire molto di più quell'email quindi se mi ricevo un'email io è Giulia ci sono degli sconti per te su muscle nutrition esattamente ok poi send sono il numero di invii banalmente che avete fatto qui come vedete qui il tempo cresce quindi passiamo da lugno fino a ottobre come vedete la lista è passata da 2095 fino a 2799 quindi nel tempo è cresciuta ok dovrebbe farlo anche la vostra se non cresce è un problema ok ne parleremo poi più avanti nei prossimi webinar numero di aperture ok numero di aperture qui la colonna G numero di click quindi mettete il numero di click numero di unsubscribe quindi di gente che si disiscrive numero di bounce non abbiamo parlato di questa cosa direi saltiamolo a piedi pari perché momentaneamente è un dettaglio ok noi lo mettiamo momentaneamente è un dettaglio questi sono i soldini che potete trovare da analytics quindi quanto secondo analytics quella email ha portato ok quindi andate su analytics vedete nella schermata delle campagne ci dovrebbero essere anche le campagne email sì se avete allora se usate active campaign in pratica per far venire fuori quella campagna su analytics c'è una spunta da mettere prima di inviarla cioè si attiva una spunta con scritto vuoi tracciare la tua campagna su analytics e gli devi dire di sì su altri tool tipo mailchimp è un pochino più complesso va prima attaccato analytics e poi allora inizierà a tracciarvelo se non la attaccate l'altro modo potrebbe essere andare a mettere voi gli utm a mano cosa molto sconsigliata perché l'errore è molto facile questa colonina qui invece dopo la colonna n banalmente non fa altro che prendere il fatturato di quella mail e dividerlo per il numero di invii che avete fatto quindi vedete che questa email qui per ogni mail che avete inviato ha fatto vi ha fatto fatturare 67 centesimi che non è mica poco cioè se avete una lista molto grossa sono soldini ma vedete c'è anche roba più 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 grossa 2 euro qui ho 2 euro 81 6 euro e 65 cioè immaginatevi avere una lista di 100.000 persone e ogni invio che fate sono 6 euro e 65 Giulia scusa torno un attimo di qua perché voglio far vedere la mia faccia arrabbiata con il bastone della vergogna cioè se avete una lista di 100.000 persone e ogni mandate via una mail che vi fa fatturare 6 euro a invio cacchio cacchio il marketing non funziona bastonate abbastonate e voi dovete lavorare ad ogni invio per cercare di altare quel valore cioè ad ogni invio dovrebbe esserci qualcosa che cerca di altare sia il numero di aperture sia il numero di clic che sia quel dollaro send esattamente vado avanti Giulia scusatemi ma ho bisogno di far vedere ogni tanto la mia no no la mia arrabbiatura verso il mondo perché ormai a forza di sentire queste cose io sbrocco open rate quello di cui vi parlava Giulia prima quindi il numero di aperture sul numero di invii sì cto numero di clic su numero di aperture qui questo lo saltiamo più di pari è una media mobile sostanzialmente una media mobile che serve per capire se state lavorando bene invece di prendere la singola mail ne andiamo a prendere un mese di mail in modo tale di avere un dato mediato un mese un mese perché qua si conta un invio a settimana se ne inviasse di più potrebbero essere le ultime due settimane esattamente questa cosa qui serve Giulia perché il rischio è di focalizzarsi sulla singola mail quando magari avete beccato un prodotto best seller che per forza clicca bene per forza ha un buon fatturato ma in realtà non state migliorando il modo in cui fate le mail bisogna guardare un periodo un pochino più lungo per avere un pochino più di dati come dicevamo anche per le ad non guardiamo il singolo giorno guardiamo magari una settimana in questo caso per le mail dato che facciamo un invio a settimana guardiamo un mese e questo dipende un pochino insomma dal periodo poi l'unsubscribe rate molto difficile da dire e bounce rate ora in questo bel fogliettino qui a destra vi ho fatto anche guardate che bel lavorino che ho fatto vorrei che mi mandasse dei cioccolatini allora vi ho messo una leggenda ok per valutare quanto effettivamente dovrebbero essere quei valori ok quindi potete confrontare i vostri valori con questa leggenda qui esempio un buon open rate dovrebbe stare tra i 17 e il 28 per cento ok un buon CTO tra il 10 e il 15 per cento un buon subscribe minore dello 0,5 un max bounce rate il massimo di bounce rate scusate deve essere del 2 per cento ok ora vi ho fatto anche dei bei grafichelli che sono sempre belli perché vi vorrei far vedere delle cosine molto velocemente che succedono che succedono questo è il caso di un nostro e-commerce che gestiamo guardate un po' che cosa succede cosa dovrebbe succedere l'open rate al crescere della della lista mail un pochino va a soffrire quindi cala è fisiologico è normale perché più persone entrano più è probabile che ci sia qualcuno che non sia nel tempo si perda o diventi meno interessato alle nostre mail esattamente però qui ci sarebbero giudice dell'action che non diciamo oggi che si possono fare per evitare che scenda troppo ok non ve lo diciamo al prossimo web dovrete dire al prossimo web dovrete cavolo sennò tutto tutto oggi spoileriamo tutto cto come vedete cto nel tempo cresce cioè non cresce in maniera completamente lineare a questo vedete questo movimento ondulatorio crescente però deve fare così perché se voi continuate a testare dei metodi di scrittura differenti fate delle cose diverse fate di testa B in generale quel grafichiello lì dovrebbe essere tendenzialmente crescente giusto poi dopo non entrerei negli altri due diciamo nell'ultimo che è quello del tasso di disiscrizione l'ultimo a destra questo qua dovrebbe nel tempo andare a calare se fate le cose bene perché dovrebbe andare a calare dovrebbe andare a calare banalmente perché capite meno male come fare meglio email marketing la lista la riempite sempre di persone interessate a quello che state dicendo sfoltite un po' di quelli che è meglio che se ne vada da un'altra parte e quindi il tasso di disiscrizione va a scemare se siete bravi se non cominciate a fare delle porcate da un giorno all'altro perché abbiamo avuto anche dei clienti che da un giorno all'altro hanno cominciato a fare cose tipo inserire email comprate e allora lì improvvisamente il tasso di disiscrizione schizza le stelle quindi quelle sono robe da non fare quindi io Giulio il consiglio che vi possiamo dare prendete quel documento e anche solo per provarti e anche solo per cominciare un po' così a capire come funziona cominciate a inserire i dati sì perché vi renderete conto di diverse cose prendete le ultime email che avete mandato sì magari andate indietro non so adesso poi dipende quante le state mandando però mettetene su una decina sì bastano poche mettete su una decina iniziate a vedere cosa succede cioè magari poi voi avete anche diverse liste quindi mandate certi newsletter una lista altre ad altre quindi vi potete rendere conto di come va una lista come va un'altra o come va l'email di un certo prodotto rispetto ad un altro i numeri secondo me sono quella cosa che non vi mente mai quindi nel senso mettetevi lì davanti provateci prendetevi una mezz'oretta nel vostro tempo per compilare il pallello e vedere cosa succede noi lo facciamo non solo con email marketing ma anche con tante altre tipologie di marketing di azioni di marketing che puoi fare e comunque buttare giù delle reportistiche ti aiuta sempre tanto a capire quello che stai facendo ti aiuta a vedere i pattern quindi esempio vi accorgete che quando mettete nell'oggetto determinate cose funziona meglio o funziona peggio quindi andrete a migliorare nel tempo il vostro modo di scrivere le mail quindi proprio mettetevi giù provate a inserire i dati provate a inserire i dati e vedete cosa succede poi scorgete delle anomalie vi accorgete che ci sono cose che proprio non tornano quindi magari non so avete una email improvvisamente che ha un cto altissimo cosa è successo cosa è successo allora lì ecco andate a vedere che cosa è successo andate a capire perché avete avuto un tasso di click così alto proprio dalle anomalie a volte che si riesce a capire come migliorare il proprio lavoro e poi per esempio Luca in tantissimi ci chiedono sempre ma quando devo mandare le email quando anche questa è una cosa che potete capire mettendo giù i numeri delle vostre email cioè se voi vi mettete il giorno in cui la mandate e guardate gli ultimi invi come sono andati magari il mercoledì per il vostro e-commerce è il giorno migliore per un altro è il venerdì non sono tutti uguali non sono tutti uguali e quindi non è che noi abbiamo la macchetta magica ah il tuo è sicuramente il tuo bebì alle 15 no bisogna provarlo allora Giulia direi che siamo arrivati in fondo e siete rimasti tutti con noi io vorrei abbracciarvi tutti vi giuro io questa cosa ancora non lo è un'anomalia nel senso che la dobbiamo studiare la dobbiamo studiare rimanete sempre tutti fino in fondo questa è una cosa che non mi fa piacere di più cioè capire che vi possiamo dare una mano nel vostro lavoro anche con questi semplici consigli mi ripaga veramente di tutto di tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni è veramente una cosa bellissima quindi vi ringrazio e vi chiedo anche se avete delle domande su quello che abbiamo detto scrivetele prima di chiudere e ci siamo dimenticati qualcosa Giulia no però potremmo dire del corso non ne abbiamo parlato neanche all'inizio sì però possiamo aspettare le domande magari allora Manuela scrive quale tool per un test AB allora Manuela esempio noi usiamo tantissimo Active Campaign sì che è un tool per fare email marketing sostanzialmente Active Campaign al suo interno ha proprio una modalità per fare il test AB in maniera semplicissima proprio è guidata quindi ti permette di farlo molto rapidamente ma qualunque tool ormai di email marketing ti dà questa possibilità sì praticamente tutti poi se invece ti riferisci al tool per controllare il test AB noi usiamo quello di Neil Patel è gratuito cerchi su Google Neil Patel test AB e ti viene fuori devi solo mettere i numeri giusti praticamente quello che dice Giulia è una volta che tu hai fatto con esempio Active Campaign il test AB hai fatto passare due settimane e vai a vedere i tuoi dati Active Campaign ti dirà guarda la versione A ha fatto 1000 aperture e 200 click la versione AB ha fatto 1010 aperture e 300 click tu prendi questi dati questi 4 dati e lo metti nel tool di Neil Patel che adesso ti scrivo in chat così basta che tu vai online e scrivi Neil Patel test AB scrivi questa cosa qui ok su Google ti viene fuori esattamente questo il tool che hai visto prima nelle slide ok tu metti questi 4 valori clicchi sul tasto e lui ti dice se effettivamente se e quanto è migliorativo una versione rispetto all'altra occhio perché se non è migliorativo lui ti dice guarda che non è statisticamente attendibile questo test ok quindi segui quella roba lì occhio una cosa però ci dovrebbero essere anche abbastanza clic quindi se hai 10 clic contro 15 sono un po' troppo pochi ok sì perché quel tool non ti dice che dovresti avere un minimo di dati da una parte e dall'altra dipende anche dalla tua lista mail in questo caso quindi in generale se dovete fare questa B secondo me se avete meno di 2000 contatti fate molto fate molto però potete sempre riempire i dati e inserire i dati in quel pannello che vi ho fatto vedere perché anche solo inserire guardare i dati di quello che avete fatto vi posso assicurare che vi aiuterà tantissimo a migliorare il vostro email marketing e quindi fatturerete di più è automatico concordo cioè vi fa rendere conto delle cose che è già il primo passo essere consapevoli è il primo step per fare qualunque miglioramento nella vita quindi siate consapevoli compilate i dati prendetevi il tempo per farlo perché è importante Giulia siamo arrivati in fondo e Giulia ci scrive è un piacere starvi a sentire grazie grazie di cuore siamo arrivati in fondo ricordiamo come tutte le volte due cose la prima che è la più importante è scaricatevi la guida di Giulia sulle landing page per i commerce che convertono su get-limitless.com che è il nostro sito trovate guida in alto nel led cliccate lì lasciate l'email è gratuita e ve la leggete è super l'altra cosa tutte le volte non ce la faccio è il mio libro dieci volte il fatturato del tuo e-commerce che trovate su amazon se avete amazon al limite è gratis altrimenti costa 9 euro è un libro che quasi vi regaliamo anzi vogliamo proprio far sì che lo leggiate non ci interessa guadagnare quel libro ma leggetelo perché vi può dare una mano sì a noi interessa questo e poi oggi sorpresa speciale perché abbiamo appena messo sul nostro sito un corso sull'email marketing che abbiamo fatto qualche tempo fa però è ancora super attuale e lì dentro ci sono tutti i contenuti di cui parleremo nei webinar ma molto più nel dettaglio e ci sono anche o 4 o 5 non sono sicura lezioni pratiche su come usare ActiveCampaign per fare determinate azioni quindi come creare un forum come guardare i dati ci sono delle cosine proprio a livello pratico che magari qua nei webinar facciamo fatica a farvi vedere però lì dentro ci sono e un'ultima cosa per chiudere vi ricordiamo non l'abbiamo detto ma noi ci dimentichiamo sempre abbiamo prescontato le cose che ovviamente noi siamo anche un'agenzia di marketing digitale che lavora su e-commerce quindi se avete un e-commerce volete capire come possiamo darvi una mano mandateci una mail a lucachiocciolaget meno limitless punto com comunque la mail che avete ricevuto per partecipare a questo webinar quindi ce l'avete e iscriveteci e cercheremo di capire se si può collaborare facciamo quattro chiacchiere al massimo vi diamo due consigli Giulia ci vediamo la prossima volta qual è il prossimo tema? newsletter newsletter o autoresponder interessante newsletter quindi un po' abbiamo spoilerato abbiamo parlato un po' però c'è tanto ancora da dire sì sì c'è un sacco di roba sono newsletter sembra finita qui ma in realtà c'è tanta 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 ciccia ragazzi è stato un piacere Manuela ci disse molto interessante grazie Manuela grazie ma vedrai che i prossimi sono meglio sono meglio perché ce n'è di ciccia oggi siamo stati un pochino più in alto ma adesso dobbiamo immergerci ancora nell'email marketing perché riserva tante sorprese grazie a tutti e ci vediamo settimana prossima sempre ore 15 qua con il nuovo straordinario webinar ciao 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 ciao